Salve a tutti, adesso andremo a vedere Outliner Window. Outliner Window è una di quelle finestre che compone il software Blender e si trova in alto a destra della 3D View. Outliner è praticamente un elenco a cascata di tutti gli oggetti introdotti nella nostra scena. Da Outliner è possibile selezionare i nostri oggetti, è possibile ricercare i nostri oggetti nelle eventualità le scene siano molto complesse, è possibile grazie ad Outliner vedere anche cosa è stato associato al nostro oggetto. Infine, grazie a questi tre elementi che si trovano in Outliner, l'occhio, la freccia e la macchina fotografica, è possibile eventualmente in fase di lavorazione nascondere un qualsivoglia oggetto. Magari si potrebbe nascondere un oggetto che nasconde alla vista un altro oggetto. Nascondere un oggetto tramite l'occhio permette comunque che questo venga renderizzato nel caso in cui mandassimo una renderizzazione. Se invece vogliamo continuare a vedere il nostro oggetto in fase di lavorazione ma non volessimo vederlo in fase di renderizzazione, basta semplicemente cliccare sulla macchina fotografica. Adesso, andando in renderizzazione, il nostro oggetto non è più visibile. Infine, grazie alla freccia, cliccando, escludiamo l'oggetto dalla possibilità di essere editato. Questo per eventualmente evitare incidenti muovendo oggetti che non si vogliono muovere in scena complessa. Bene, per adesso è tutto, alla prossima!